Avevo sei anni, vivo col pepolo, magari c'era qualcun anziano, vecchio diciamo, aveva settant'anni. Settant'anni aveva avuto, io ne avevo sei, sette, otto, avevo avuto, e allora avevamo ancora pecore insieme, questo pezzo, io ce ne avevo due pecore, le portavo con loro. E un giorno, un giorno avevamo visto che stai qua in cerchio, in gran cerchio, se ne erano venuti, hanno fatto un muoto da mezzo, e cos'è? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, c'è il lepre. E' un altro, ma da solo al bastone, se vuoi il bastone, non so, non lo so, ma da solo al bastone si vado. Ma da solo al bastone si vado, paga, c'è la lepre, chi capisce con una mazzata? Questo è il mio tavolo, la scrittura, qua, per Natale, la vettorina potevi fare, ma non c'era niente, due castagne, un arancio, non c'era niente, non c'era niente, non c'era manca la storia da camminare per dire. Oggi puoi fare come vuoi, c'è tutto, ma non capisci niente oggi, oggi c'è tutto, tutto per tutto, ma non capisci niente, secondo il mio parere. Grazie